Provi pena per i lavavetri? Alcuni Alcuna pena o alcuni lavavetri? Alcuni lavavetri Grazie Provi compassione? Non compassione, mi dispiace comunque che esistano persone costrette a lavorare in determinate condizioni Ma questo dispiacere quanto ti dura? Lo spazio di un semaforo o te lo porti anche preco? Dipende dalle situazioni, talvolta lo spazio di un semaforo talvolta ha più tempo Non pensi che i semafori esistano per dare la possibilità al dispiacere di durare appunto lo spazio di un semaforo e non più? Può darsi Quindi ogni città predispone i semafori in base a quante volte si voglia che scatti la pietà? No, non credo questo Pietà elettronica? Può darsi Grazie Ciao Signora o signora, perché chiunque signora in definitiva usando la macchina si ignora, ignora la propria dignità Che cosa si prova a essere fermi a un semaforo? Attenzione A tutt'oggi, parliamoci chiaro Quanta strada hanno fatto i suoi piedi? I miei? Direi un milione di chilometri Dove vorrebbe ancora arrivare? Se ha qualche? Obiettivo ancora Da nessuna parte E da nessuna parte ci voleva arrivare quando ero giovane Lei è partito che già non voleva arrivare? No, no, voleva arrivare ma non per forza Non per forza di cose No, niente Ma per le cose stesse Esatto E quindi non ha avuto la vita giorno dopo giorno per quella che è Ma il giorno dopo, quello giorno Non ha avuto il rimpianto per il giorno prima? No, no, niente Nessun rimpianto Né allora, né adesso, né dopo Lei rifarebbe tutto? Tutto Anche queste interviste? Tutto, tutto La rifarebbe queste interviste? Sì, sì E allora rifacciamo Vorresti tornare ai tuoi tempi? No, ma sono bene così Sei bene così Lei invece vorrebbe tornare ai tuoi tempi? No, ma no Lo vede che passano gli anni e aumentano i rimpianti Lei ha fallito? Eh? Ha fallito? Non ha fallito? No, 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 mai Vai, vai Ti senti un fallito? No Tu hai fallito qualcosa nella vita? No Vai a vedere Vai a vedere Ma no, signora, per rosso, non può andare Vorresti tornare ai tempi di tua madre e non nascere? Ma è vista così Vorresti essere tua madre? No Va bene Voi siete un tipo di persone che vengono definite impropriamente giovani Oltre ad essere giovani, voi due di che cosa li occupate? Quando è una scuola francese Francese, francese, francese No, la scuola francese è qui a Roma Quanto tempo della giornata vi occupa essere giovani? Penso tutta la giornata, tutta la notte Non avete nemmeno un minuto appunto per dedicarvi ad altre cose? Perché? Sì Cioè l'essere giovani vi ruba tutto il tempo e quindi magari vi priva di una pizza, una birra, una pacca sulla spalla anche Quello fa parte di essere giovani Esatto Può fare tutti essendo giovani E così vicino a due o tre giovani non sappiamo ancora quanti siano in esattezza perché i giovani danno sempre l'impressione di una macchia molto affiatata Mi ritenete veramente giovani o pensate che la società si vi stia remando contro? No, no, ci crediamo giovani Di quanti anni? Di quanti anni di giovane? Tu per esempio, di quanti anni sei giovane? Quindici E tu invece? Io pure quindici Tu sei giovane per modo di dire perché insomma hai già la tua esperienza in campo sessuale No, volevo sapere se tu hai qualche paura, se hai avuto qualche paura in passato E di che cosa? Raccontaci un episodio che ti ha fatto paura Non lo so Che ne pensi dei libri scolastici? Non mi piacciono Hai paura dei libri scolastici? Hai paura della scuola? No, paura no, non mi piace Il terrore della scuola Tu sei giovane, diciamo, ti affacci appena alla non vita Sì Come sarà? Come sarà quello che ti aspetta? Bello Sei ottimista? Sì Siamo a fare tutto se è leggero Ma gara, ma gara Manca poco Poco manca Meno nove, meno otto, meno vecchi, stop Non manchiava così poco Meno tre, meno due Meno vecchio, stop Povero vecchio, stop